Che malattia ha Dodi Battaglia? Il musicista ha avuto un malore a Bologna, durante una performance Cosa è successo? Dodi Battaglia, il chitarrista dei Poo, ha avuto un malore durante una performance a Piazza Maggiore, a Bologna Il musicista è stato costretto ad abbandonare l'evento ed è stato portato via dal suo staff Ma cosa è successo? Che malattia ha? Leggi anche, Coldplay, Chris Martin problema di salute, che malattia ha? Come sta oggi? Ultime notizie sul cantante che malattia ha Dodi Battaglia? Dodi Battaglia, secondo quanto riportato da Radio Bruno, si starebbe portando dietro alcune conseguenze di un'infezione che ha avuto quest'estate Proprio il diretto interessato, sulla sua malattia, ha detto, come sta oggi? Dodi Battaglia, successivamente, ha voluto spiegare di persona ai suoi fan cosa gli è successo Specificando quali siano oggi le sue condizioni di salute, cosa è successo il 25 settembre? Dodi Battaglia dei Poo ha fatto riferimento al 25 settembre Ma cosa intendeva? Proprio quel giorno, fra il chitarrista dei Poo e Focchinitti c'è stato un fraintendimento che ha portato a un grosso polverone mediatico In quell'occasione, infatti, i due si sono ritrovati per una serata in onore dell'ormai scomparso Stefano Dorazio, serata in cui Battaglia non è stato presente fisicamente, ma mostrando un suo contenuto registrato da remoto In quell'occasione, il suo collega Robby Facchinitti ha detto, dopo questa frase, qualcuno ha creduto che le parole fossero riferite proprio a Dodi Battaglia, che non era presente all'evento per Dorazio In realtà, dopo i primi fraintendimenti, è stato lo stesso Facchinitti a specificare che assolutamente non si riferisse al suo amico e collega Seguici su Instagram cliccando qui